Allora, ma visto che ci siamo sbilanciati anche per quanto concerne il pronostico sulla vittoria finale della Champions League, andiamo anche sull'Europa League, visto che di Europa League stavamo parlando, perché poi le favorite sono le solite che abbiamo detto in questi mesi, soprattutto Liverpool e questo Leverkusen stradipante allenato da Xabi Alonso, troppo facile dire Liverpool o il Bayern Leverkusen, ma tu chi vedresti come eventuale sorpresa in questa Europa League? La Roma può rientrarci in queste sorprese o vedi proprio che non c'è male? Assolutamente, ci sono diciamo un tridente prima della Roma, secondo me. Milan, vabbè perché Milan la metto come terza forza, al pari di Brighton e Sporting, e Benfica. Cioè il Benfica è in Europa League? Sì. Queste tre sono... Secondo me ragazzi, guardate, non me ne vogliate, ma il Brighton lo state un po' tutti sopravvalutando. Ma dai, Francesco, dai. Il Brighton è terzo per quote. Ma dai. Ma Francesco, dai, smettila. Ma non è che perché non ti piace De Zerbi, allora... La stessa storia con Sarri, quando cominci ad attaccare qualcuno, Francesco... Allora, aspetta, allora, aspetta, spieghiamo anche bene questa cosa. Io non... Poi replichiamatemi tutti, avete le gabbie libere. Allora, quello che dico io, io non ce l'ho con De Zerbi, perché De Zerbi... No, aspetta, 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 ci arrivo. De Zerbi è un ottimo allenatore, un allenatore giochista, anche se io non sono amante dei giochisti. Dalla sua ha il fatto che l'età è a suo vantaggio, perché parliamo di un classe 79. Sa far giocare bene le squadre, ha portato un'idea di calcio, che se ne dica, al Brighton ha portato anche dei risultati storici che nessuno aveva mai portato, però quello che mi dà fastidio a me non è questo, che poi è oggettivo e gli vanno fatti solo che degli applausi. È che c'è una narrativa esagerata nel dire, deve allenare il Barcellona, deve allenare il Real Madrid... E perché no, scusami? È questo... No, il migliore del mondo no, però ha il potenziale per essere uno dei topi. Questo succede anche con Bielsa, che poi è un allenatore, per carità, con delle idee piacevole da vedere, che poi però a conti fatti ha vinto molto meno di tanti altri. Io non sto dicendo che De Zerbi è scarso, altrimenti sarei un cretino se dicessi questo, perché De Zerbi è un grande studioso del calcio e non è solo un teorico, è anche un pratico. Quindi, quello che dico io, bravo De Zerbi, però per dare dei giudizi, secondo me, in questo preciso momento esagerati, magari in futuro non lo saranno, aspettiamo che alleni una big e aspettiamo magari un percorso graduale. E per percorso graduale io intendo Brydon, Milan e poi se vale eventualmente il Barcellona e il Real Madrid. Ma adesso non puoi annoverare De Zerbi allo stesso livello di un Ancelotti, di un Guardiola e di questi qua, perché c'è anche gente... Anche cosa vuol dire, ma Ancelotti è partito dal basso, ha allenato squadra, poi ha allenato la Juve, ha fallito con la Juve perdendo lo scudetto contro la Lazio, poi è volato. Però è diverso, secondo me, in questo caso. Allora, io non... Sì, però le storie cambiano, però alla fine bisogna dargli l'opportunità di allenare una big, anche fallire e poi il potenziale ce l'ha. Il potenziale ce l'ha. Allora, diamo la buonasera anche a Simone Ferreri per la prima volta qui sul canale. Ci siamo scontrati, criticati, chi più ne ha più ne metta sui social, ma qui è un'altra cosa, amico mio. Ridiamo e scherziamo. Buonasera, Simo. Buonasera a tutti. Stavamo parlando di De Zerbi, cioè, siccome io volevo far polemica, visto che stavamo facendo il toto di quelle che potrebbero vincere o meno l'Europa League, il Kaiser ci ha tirato dentro il Brighton, quindi stavamo parlando un po' di questo. C'eravamo focalizzati su De Zerbi. Allora io a questo punto, prima di andare dagli altri, ti chiedo, favorita per l'Europa League e che cosa ne pensi pure De Zerbi, visto che stavamo parlando di quello? Guarda, io, favorite per l'Europa League, ho il Milan e il Feyenoord. Ah. Da che se ne dica. Oggi il Feyenoord, cioè, non ha dimostrato di essere una squadra al di sotto dei possibili, perché c'è una competizione del genere. Poi, onestamente, c'è un allenatore che mi piace molto di più di De Zerbi. Adesso non so di che cosa avete parlato. Arn Slott, si chiama. Dello specifico di De Zerbi che è stato detto. Pro e contro. No, guarda, ti faccio un recap al volo. Praticamente stavamo analizzando quali potevano essere le favorite per l'Europa League. Enzo ci ha tirato dentro anche il Brighton. Poi siamo finiti a parlare di De Zerbi. Io ho detto, De Zerbi è bravo, però secondo me su di lui c'è una narrativa esagerata, perché poi un allenatore, per essere annoverato nell'Olimpo, chiaramente deve fare degli step. Vedi, su questo siamo d'accordo. Su questo siamo d'accordo. Ho sempre sostenuto questa cosa. Io te l'ho sempre detto. Se veniamo in live, come è successo con Umberto Previdi e con altri, si va d'accordo. Perché poi lo stesso... No, vabbè, dipende sempre. Ognuno ha le sue idee, ovviamente. Per me il Milan è quasi tenuto a vincere questa Coppa. Tenuto. Poi non so, magari sbaglio. No, no, ma guarda, mi hai dato due spunti. Perché tra le altre cose il Milan, questa è l'unica competizione europea che non ha mai vinto. Per quanto riguarda invece il Feyenoord, è una Coppa che gli manca da 22 anni. Perché loro la vinsero nel 2002, in finale contro il Dortmund di Amorose Coller. E avevano un attacco pazzesco, ragazzi. Perché c'era un giovane Robin Van Persie. C'era Pierre Van Oidonk, che secondo me è stato uno dei giocatori più sottovalutati della sua era. Perché è forte di testa, bravo con entrambi i piedi, forte su punizione. E poi c'era anche Van Oidonk, Van Persie e Thomason, che poi andò al Milan e aveva il ruolo di riserva di lusso che entrava e segnava. Andiamo a sentire anche i pareri degli altri sul Toto Europa League. Perché chi è che non ha parlato? Jed. Stavamo parlato su The Zerby, ma alla fine il pronostico non le fa. Brighton, io dico Brighton. Tipo per il Brighton, sinceramente. Eh sì, tipo per il Brighton. Anche se spero che lo vinca un'italiana, in questo caso il Milan, perché la Roma è figura di esempio. Scusa Francesco, scusa, ma la domanda era chi speri che vince l'Europa League o chi pensi che vince l'Europa League? Facciamo tutte e due, io ho detto... Tutte e due, cioè Brighton per me tutte e due. Spero e credo che possa vincere, cioè ho questa sensazione, però ci spero anche. E spero anche che possa vincerlo il Milan solamente perché vorrei che lo vincesse una squadra italiana. Tra le altre cose il Milan è una coppa che manca. Prima o poi secondo me l'Europa League potrebbe arrivare, anche se chiaramente il Liverpool, ragazzi, è tanto tanto forte. Noi, Emiliano? Liverpool è estremamente forte, però calcio romantico dico Brighton anche io. Eh, tutti sognano questo gabbiano che vola verso l'infinito. Il gabbiano guidato da De Zerbi. Dai, per me l'ha fatto anche romantica e metaforica. Bravissimo. Angelo, volerà questo gabbiano di Brighton verso la conquista dell'Europa League? Tu sei più realista. Secondo me festeggerà la Germania. Ah, e chi? Il Bayern, il Bayern Leverkusen. Ah, bravissimo. E sarebbe la seconda volta? Sarebbe la seconda volta per il Leverkusen? Il Leverkusen non ha mai vinto il campionato, ma ha vinto l'Europa League quando si chiamava ancora Coppa UEFA. Tra le altre cose, ragazzi, quella fu, la vinse in maniera clamorosa, perché perse l'andata, perché si giocava in andata e ritorno, era nell'88 se non sbaglio, e perse 3-0 contro l'Espagnol di Thomas Ancono. Al ritorno l'Leverkusen la ribaltò 3-0 e la vinse calci di rigore. Fu proprio una cosa epica, il Leverkusen che poi storicamente è sempre sfortunato. Quindi tu dici Leverkusen. Sì, mi piacerebbe... Dici il triple-E per contrario. Ovvio che spero che la vinca un'italiana, il Milan. In questo caso stava arrivando in azione di Leao che ha fatto stasera... Mamma mia. Tanta roba. Ma certo sarebbe veramente bella, in croci permettendo una finale Liverpool-Leverkusen, con Xabi Alonso che potrebbe allenare il Liverpool contro il suo passato. Quindi sarebbe romantica. Giovanni? Io sono d'accordo con Angelo. Secondo me il Bayern Leverkusen alla fine vincerà l'Europa League. Anche a me piacerebbe tanto una finale Liverpool-Bayern. Sarebbe proprio quella finale che ti piacerebbe godirti, no? Detto questo, sarebbe più che positivo se l'italiana andasse davanti, ragazzi. Perché c'è da confermare questo quinto posto per la Champions. Anzi, il Lazio non so se ne avete parlato, ma vincendo ieri ha fatto un grandissimo favore all'italiana. E sarebbe un problema se vincesse il Bayern Leverkusen, appunto. Esatto, lo stavo dicendo adesso. Io però vorrei anche un altro Taylor, perché mi farebbe godere ancora di più. Vorrei un po' di figato scopo. Anche secondo me a Simone, avendo visto un video che è diventato viral. Ma Simone, infatti c'avevo un viso che... Oddio quanto ci dispiace, attaccate! Sei tu quello? È lui, è lui, è lui. Forse così, forse così, non era voluto, cioè... No, non era voluto, non hai capito. Non tutti conoscono la storia. Mi hai fatto scoppiare il cuore di gioia, è stato bellissimo quel video. Guarda, pazzesco, bravo, 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 bravo. Non era voluto, era tutto naturale, cioè non era organizzato niente, è stato spontaneo. Ma si è visto, ma si è visto. È stato mandato su, Francesco forse sa la storia, è stato mandato su un gruppo di lavoro con 25 persone, colleghi. E poi è stato rimosso dopo neanche un'ora, perché comunque sul gruppo stavano anche donne. Io che dico parolacce, cioè non è da me in modo così volgare. E era solo una cosa cogliartica, vorrei essere verso due o tre colleghi tifosi della Roma. Quando ho visto che loro avevano visualizzato su WhatsApp questo video, l'ho rimosso. E il giorno dopo mi hanno chiamato amici da Milano, da Napoli, persone che non vedevo da vent'anni, che hanno visto sto video. Io neanche sapevo che era finito su TikTok, che io neanche uso di TikTok per dire, no? E diventavo virale senza volerlo. Poi ecco, Francesco ovviamente ha pensato inizialmente che magari potesse stare una cosa sguagliata, come l'ha detto lui, penso. No, nel senso che poi, guardate ragazzi, allora adesso vabbè... C'è stato quell'attaccato per la ARC che è stato un pazzesco. Aspetta, aspetta. Pure le radio, pure le radio mi hanno chiamato, anche le radio. Ragazzi, allora c'è da fare un distinguo. Allora chiaramente io facendo... Aspetta, no, aspetta, questa cosa la spiego. Dovendo fare il giornalista, chiaramente poi sono portato... Ho l'obbligo morale di avere una certa obiettività. perché se voi mi chiedete da giornalista l'andamento di quella partita gli è stata una partita rubata. Non è vero, non è vero, non è vero. Il gol di Dybala doveva essere annullato? Cioè, questa cosa qui mi dà fastidio, questa finta... Come si dice, questa finta sportività, ma non da parte tua, Ebrece. Non da parte tua. Il gol di Dybala era ad annullare tutta la vita. Se in Italia succedesse una cosa del genere contro la Roma, per un tifoso da Roma, contro la Lazio, per un tifoso da Lazio, lo stavamo ancora a rivendicare un danno del genere. Il gol di Dybala era ad annullare. A certo campo era fallo. Quando Mancini o Cristante va su quella palla, non mi ricordo niente. Allora, guarda, Simo, inquadriamola da un punto di vista pugilistico. Cristante. Ai punti, allora, andavano espulsi due giocatori al Siviglia, perché questo va detto, Raghi di Cellamela. Hanno fatto ripetere il rigore a Montielle. C'era un rigore nettissimo sulla Roma, il fallo quello là che ha fatto Fernando. Kaiser se lo ricorda bene. Quindi, se andiamo a bilanciare gli episodi, la Roma ha avuto 3-4 anni. Ma ai punti probabilmente meritava la Roma, però mi dà fastidio che passi al messaggio, dopo quasi un anno, non quanto è passato, che la Roma ha perso quella finale per colpa dell'arbitro. Magari stava sfortunata. Ma non è che ha perso per colpa di Tairo. Anche per colpa dell'arbitro. No, non è colpa dell'arbitro. L'ha perso perché la Roma ci ha avuto paura. I tempi supplementari hanno voluto andare ai rigori la Roma, se ricordate bene. Magari la poteva vincere a partire. Ha rinunciato a giocare, a parte gli ultimi 2-3 minuti dei tempi supplementari, che per poco segnava pure. Ha sbagliato tutti i rigoristi però, Kaiser. Ma quello è un altro discorso. Lui parla, ad esempio, del gol annullato alla Roma, che andava annullato. Ok, se mi l'annulli, per me non è mai da annullare, perché il calcio è un'altra cosa rispetto a... Sì, sì, no, no, aspetta. Scusami, Kaiser, non ti conosco. Guardi, sono d'accordo con te. Cioè, il regolamento da adesso anche a me non piace. Magari con un altro... Però, visto che c'è un regolamento, per me quello lì è fallo. È da soppar l'azione. Quello dico. La conduzione dell'arbitro va varia da arbitro ad arbitro. Lui magari ha arbitrato un po' più all'inglese, e quindi in Inghilterra quei falli non li fischiano mai. Ma anche se dovesse l'annullato, tu mi annulli l'1-0, quindi poi c'è questa 0-0, io posso vincere. È come la partita dell'Inter, l'Inter-Roma, no? Assegnata a Cerbi, quel gol è da annullare. Poi, non lo annulli, cioè lo annulli, l'Inter è capace che vince 5-0. Ok? Sì, sono capito il discorso. 4-2. Ma la realtà dei fatti è che poi, sul risultato di pareggio all'ottantatresimo, il calcio di ricordetto per la Roma, i supplementari, invece di giocarli in 11 contro 11, devi giocare in 11 contro 9, e la partita cambia. Raghi, c'è Rigolista che ha fatto gol, a me l'ha fatto gol. Sì, sicuramente sì. No, dico, ai punti probabilmente, ai punti probabilmente, sicuramente avrebbe meritato la Roma, però, voglio dire, non deve passare il messaggio che, cioè, noi dopo un anno stiamo ancora a parlare di te, io, se fossi stato tifoso, cioè, senza di, se fossi stato tifoso io della Roma, se fossi accaduto a Lazio, io stavo ancora rossicato perché avevo perso la finale, non mi attaccavo all'arbitraggio come stanno a fare tante persone romaniste, dopo un anno. Quello dico. Alla fine rimane il risultato, la scrofitta. Invece qui, solo a Roma posso fare cose al genere, che viene messo un arbitro croce per due o tre errori che magari può fare qualsiasi arbitro. Andando a ritroso, non è la prima volta che il Siviglia vince una finale di Europa League in quella maniera, perché pure con il Liverpool gli furono negati due ricorinetti al Liverpool, fu annullato un gol regolare all'Ovren, quindi, insomma, il Siviglia... E allora sarà fortunato con gli arbitri, perché io non credo a complotti comunque, però c'è... Jed, intanto... Ecco qua, ecco Bohemi. Ciao! Salvo! 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 Ma scusa una cosa, vi siete messi d'accordo? Cioè, stesso cappello e stessi occhiali? Ma chi? Te, Jed Garbi. Ma si è così, è lui. È un fratello nell'anima. Sai, chi ama Sarri, si capisce, insomma. No, ma io, io non sono le donne, poi se tu vuoi amare Sarri, a dismisura, è un po' di... Ah, comunque, Salvo, allora, ti creava anche una pertinenza, perché poi, vabbè, partendo dal presupposto che te puoi parlare di tutto, prima stavamo dando le favorite... Ciao, Keiter, ciao Simone. Ciao, Salvo. Ciao. Ovviamente, ok, questi erano i saluti, ovviamente prima stavamo parlando di quelle che potevano essere le favorite per l'Europa League, e, in maniera molto sorprendente, in tua non presenza, in molti hanno detto il Brighton di Roberto De Zerbi, e quindi la domanda che ti faccio, sei d'accordo e te la semplifico, chi vincerà l'Europa League? Il Liverpool? Ottimo. Il Brighton di Roberto De Zerbi? Dipende, dipende, Roberto, se vuole giocare per ottenere un altro posto in Europa col Brighton, oppure vuole fare questa campagna europea al massimo, perché io credo che il Brighton non abbia attualmente la rosa per competere per tutte e due le competizioni, cioè Premier League e Europa League. Tanti punti quest'anno, soprattutto la prima parte del campionato, li ha lasciate con le cosiddette piccole, dove l'anno scorso volava, anche dovuto al fatto, dalle fatiche di Europa League il giovedì. non so se avete sentito l'ultima, comunque oggi pare che i suoi legali abbiano avuto un contatto con la dirigenza del Barcellona. Sì, sì, notizia rilasciata dal mondo deportivo all'incirca 24 ore fa, perché io poi ovviamente seguo il mondo deportivo, e praticamente c'era la foto del suo agente che è sbarcato a Barcellona, però diciamo che è anche l'agente magari di altri calciatori che potrebbero essere in orbita a Barça, quindi magari non è collegata a De Zerbi, però sta di fatto che il suo agente nelle ultime 24 ore è passato per Barcellona, questo sì. Può essere, nel mondo deportivo di solito quando parla è come us con il Madrid, di solito non sbagliano mai, aspettiamo l'here we go di Fabrizio Romano e vedremo. Comunque secondo me no, il Brighton non è favorito per l'Europa League, ma lo è il Liverpool e il Leverkusen, è una lotta a due, non credo neanche il Milan sia favorita per l'Europa League, è il trofeo che manca nella barcheca del Milan, ma non credo che questo Milan possa battere né l'Everkusen né il Liverpool, onestamente. Lo speri soprattutto da interista? No, scherzi a parte? No, no, sinceramente no. Non me ne prego da interista, no, da amante del calcio parlare a 365 gradi di tutto, a me piace analizzare. Se devo analizzare la profondità della rosa del Milan, con la profondità della rosa del Liverpool e del Bayer Leverkusen, tra l'altro Bayer Leverkusen è l'unica squadra europea da essere ancora imbattuta, credo che non ci sia... Però guarda, la domanda che ti faccio a giro un po' tutti quanti, ma non credete che magari proprio per questo motivo il Leverkusen potrebbe avere un calo? Potrebbe avere un calo, però Francesco, io credo che attualmente la macchina dell'Everkusen è soprattutto costruita da Xambia Alonso, la macchina perfetta. Vinci 3-0 con il Bayer Monaco, si è ancora imbattuto, primo in Bundesliga a 5 punti, ha punteggio pieno in Europa League, sono sull'ali dell'entusiasmo, sono forti, sono giovani, corrono, l'allenatore ha delle idee propositive, gioca un calcio europeo all'attacco, quindi ci sono giocatori troppo importanti, Francesco, per vedere questo calo. Sicuramente io mi ricordo... No, ma anche legato al fatto, e qua te la semplifico in maniera... Cioè, te la semplifico, proprio per il fatto che loro è un'occasione ghiotta, finalmente per vincere quella Bundesliga, che gli è sfuggita, il fotofinish, sia nel 2000 quando la persero per differenza redi con il Bayern, sia nel 2002 per un punto con il Borussia Dortmund, quest'anno la possono finalmente vincere, quindi magari l'obiettivo potrebbe essere solo ed esclusivamente il campionato e quindi magari le energie saranno proiettate... Franci, ti dico la verità, non credo perché... Al volo, non credo perché l'Everkusen, soprattutto Xabi Alonso, non gli interessa settare gli obiettivi, giocano perché devono vincerle e cercare di portare a casa tutti gli obiettivi. Secondo me se Xabi Alonso dovesse fare il double non sono scontenti. Ma magari succede come Topmoller, che fa il tripline dal contrario, perde il campionato... Il Neverkusen ancora. Bisognerà vedere, Franci. Il problema è che Xabi Alonso vuole fare questi mesi al top perché sa già che lo aspettano ad Anfield a braccia aperte. Sotto questo punto di divista ti do un'esclusiva. Sono un paio di esclusive, però l'anno scorso quando io andai a fare Liverpool Leggente contro Celtic Leggente praticamente conobbi una persona lì che mi venne presentata e praticamente questa persona adesso, fra meno di un mese, ci sarà Liverpool Leggente contro Ajax Leggente. Questa persona, che è un procuratore, con Liverpool riuscirà a portare Sven Goran Eriksson in panca contro l'Ajax e lui sarà l'allenatore del Liverpool Leggente. Sì, è meraviglioso perché c'era il sogno di Eriksson che l'unica cosa che non gli è riuscita in carriera come lui stesso ha dichiarato era quella di sedersi sulla panchina del Liverpool e lo farà in questa circostanza. E anche Torres, ci sarà anche Torres e da come dicono a Liverpool diciamo, Torres, molto amico con Xabi Alonso andrà lì e cercherà di mettere una buona parola perché c'è una frangia che spinge verso Gerrard e una frangia che spinge verso Xabi Alonso. Hanno paura che Xabi Alonso non sia ancora pronto e poi taccio, non sia ancora pronto per i livelli del Liverpool soprattutto perché sostituire Klopp sarà una cosa impossibile. Questo è allucinante perché secondo me poi con tutto il rispetto per Gerrard che è un ottimo allenatore però Xabi Alonso ha dimostrato di essere più pronto di lui. Ottimo, Gerrard Franci ha vinto solo con i regni. Ha vinto solo con i regni. La Stoneville ha fallito. La Stoneville ha fallito. La Stoneville è fallito. Era in zona retrocessione. A due punti dalla zona retrocessione l'hanno cacciato per disperazione per poi prendere una Emery. Adesso vediamo com'è una Emery e dov'è. non lo so, però vabbè quando parli di Gerrard parli di Liverpool tecnicamente. Quindi molto, secondo me molto verrà deciso da questa finale di stagione. Se il Leverkusen dovesse vincere Bundesliga o Europa League magari a discapito del Liverpool è già a Danfield. O tutte e due addirittura. Magari uno non esplorberà. O tutte e due.